Se fossi sindaco, sicuramente toglierai tutta quella speculazione edilizia che stanno facendo a Scandicci, stanno costruendo palazzoni sui palazzoni. No, in realtà è bene che ci sia, perché almeno io posso lavorare. Ok, ma stai scherzando, stanno costruendo dei capannoni a Rinaldi, cioè veramente scandalosi, che tipo, no, fa schifo, veramente. Rinaldi la state distruggendo. Ecco, magari a Scandicci... No, la cosa è popolo è importantissima, però magari è anche il posto dove andare la sera un po' con te. Cosa si fa domani sera, Eri? Ma, non so, Scandicci, non c'è niente, ma che andiamo sempre in centro, anche in centro, c'è nulla, però che forza. Oltretutto a Scandicci, come piscina fungale, abbiamo le Bayonese, che è una piscina... Cioè, così. Hai visto? Ti hai guardato? Ehm, fa schifo. Ed è tipo vent'anni che dicono che devono rifare la piscina, tipo a Badia, e sarebbe anche un modo per, come si dice, rivalutare la zona di Badia. Ah, sì. Da sera non c'è niente a Scandicci. Però dai, alla fine sta facendo un buon lavoro. Sì, sì, sì. Già la picotea, comunque, mi costruisce la fastidia. Il piazza Matteo ci ha rotto i coglioni, possiamo dirlo. Sì, il piazza Matteo ci ha rotto i coglioni. Poi, eh? A Scandicci, più Zumba per tutti.